vivere vivere è la rivoluzione suprema vivere è la rivoluzione suprema la mente è prigioniera di uno schema nel quale si muove e funziona vivere è la rivoluzione suprema la mente è prigioniera di uno schema nel quale si muove e funziona questo schema che racchiude l'esistenza stessa della mente è fatto di passato e di futuro di speranza e di disperazione di confusione e di un ordine utopistico oscilla continuamente tra quello che è stato e quello che dovrebbe essere sappiamo tutti come stanno le cose e ora voi vorreste spezzare il vecchio schema per sostituirlo con uno nuovo che non sarebbe altro che la modificazione del vecchio voi vorreste costruire un mondo nuovo è impossibile naturalmente potete ingannare voi stessi e gli altri ma finché il vecchio schema non sarà completamente distrutto non potrà esserci alcuna vera profonda trasformazione illudetevi pure ma voi non siete la speranza del mondo se vogliamo che ci sia ordine al posto di questo caos è assolutamente necessario che qualsiasi schema della mente nuovo o vecchio che sia venga distrutto per questa ragione è essenziale capire come funziona la mente è possibile che la mente non abbia schemi e sia libera da questa continua oscillazione del desiderio tra il passato e il futuro certamente che è possibile significherebbe vivere ora nel presente vivere davvero implica non avere speranza non avere la minima preoccupazione del domani il che non significa vivere nella disperazione o nell'indifferenza noi non viviamo siamo semplicemente alle prese con con la morte col passato o col futuro vivere è la rivoluzione suprema per vivere non c'è bisogno di schemi gli schemi appartengono alla morte sono il passato e il futuro quello che è stato o l'utopia di quello che dovrebbe essere voi vivete nutrendo utopie così invitate la morte non la vita